quando siamo al punto di stallo questo dobbiamo fare, non concentrarsi sul corpo che sale, se tirano le braccia il corpo sale da solo un po' da freddo e non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so Pag. Pag. eh? io voglio girare un po' il braccio e prendermi di più prendermi di più eh, come è meglio? Grazie a tutti.